ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il ZIN 356 Pilot 356 ZIN ci ha abituato ad utilizzare delle cifre per denominare i loro modelli 104 358 556 e sicuramente non è il sistema migliore per far affezionare un appassionato a un determinato modello a un orologio se il nome fosse il Legend Diver oppure Pelagos questi nomi un pochino identificativi uno si affeziona e porta più riconoscibilità al modello stesso con i numeri con le cifre si va insomma un pochino ad annacquare un po' come se ecco con le referenze SKBBB il punto qual è? che è proprio nello stile teutonico della casa di ZIN come vedremo poi nella panoramica sono proprio gli ingredienti dell'essenzialità di ZIN lo spirito germanico che ci porta a fare tutto molto semplicemente ora questo orologio l'ho portato sul canale perché rientra nei miei gusti in primis è perché non è una novità l'ho visto in vetrina e mi è piaciuto non è una novità cosa significa? significa che spesso noi tralasciamo non prendiamo in considerazione orologi che sono già usciti da qualche anno da qualche mese per puntare tutto sulle novità sempre su queste novità che escono e in questo caso noi poi andiamo a trovare degli orologi che giacciono lì nelle vetrine che a un certo punto ci strizzano l'occhio come dire mi che ci sono anch'io e allora te lo prendi in considerazione e dici ma come ho fatto a lasciarlo indietro questo orologio qua che ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo orologio per rientrare completamente nei miei gusti e così l'ho preso chi mi segue avrà visto il video in gioielleria nel quale io venivo attratto da questo orologio e poi da lì a portarlo a casa ci è avuto poco poco no perché c'è il buon Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio che me l'ha messo a disposizione la gioielleria è partner ufficiale del canale quindi mi mette a disposizione gli orologi e offre un trattamento di favore a voi che state guardando è concessionario del margiosin come di altre decine 34-35 marchi quindi ce n'è un po' per tutti i gusti ora io ho preso questo orologio qua ci da dire una cosa che è la versione con il vetro plexiglass c'è anche col vetro zaffio che costa un pochino di più tra l'altro questo è braccialato e poi invece si possono scegliere anche una marea una miriade di altri cinturini in pelle o tecnici da abbinarci secondo me l'abbinamento con il bracciale è quello che mi colpisce di più come sapete e quindi l'ho preso molto volentieri ecco l'unica cosa a tenere in considerazione è il vetro plexi su questo modello che lo fa costare anche un po' meno e che potete anche però acquistarlo con il vetro zaffero volendo se siete amanti del vetro zaffero adesso io vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo rolex explorer da 39 mm orologio con il suo understatement serio, serioso un orologio che non urla io ho due orologi di rolex e il Dejust acciaio e oro con bracciale, giubilie, ghiera, zigrinata che veramente urla giostre aspettatemi e questo qua che invece è completamente il contrario la sobrietà fatta persona quindi ho i due estremi diciamo e quindi posso scegliere l'orologio per il mio mood a seconda di come mi sento se voglio essere un pochino più giostraio o se voglio essere un pochino più persona seria diciamo così mi riesce difficile ma bastasse un orologio per diventare seri saremmo tutti a posto e invece così sembra un pochino di più solo sembra adesso bando ai discorsi inutili giriamo la camera e guardiamo la panoramica del zine e noi ci vediamo qua come al solito per le conclusioni finali come al solito iniziamo con i risultati delle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 38.5 mm spessore 15.5 ingombro trasversale al polso 45.5 e interasse ansa da 20 mm si tratta quindi di un cronografo compatto a tutti gli effetti e non lasciamoci ingannare dal dato relativo allo spessore il responsabile di ciò è il trasparente che sporge dalla cassa di ben 4.3 mm quasi un terzo del totale e come è noto non appesantisce l'aspetto al polso abbiamo quindi un risultato tutto sommato piacevole in quanto va ad assestarsi con eleganza su qualsiasi dimensione di polso anche sul mio dei 19 cm di circonferenza riesce a distinguersi anche se ritengo siamo al limite dell'accettabile i 38 mm di un cronografo rappresentano forse il limite inferiore per il mio polso in ogni caso sono misure che andranno alla grande per la maggior parte degli appassionati occorre inoltre tenere presente che si tratta di un orologio con quadrante piuttosto ampio e che il vetro plastica bombato non presenta alcun milky ring quel visibile anello opaco che contribuisce a far sembrare più piccolo il quadrante stesso quindi la presenza al polso c'è stilisticamente parlando ciò che caratterizza fortemente l'identità complessiva è la micropallinatura dell'acciaio inox abbiamo infatti un orologio bracciale compreso che appare completamente opaco grazie alle superfici micropallinate che assorbono la luce senza lasciar partire alcun tipo di riflesso una finitura che apprezzo e che mi sembra essere in linea con la mission militaresca dell'orologio per quanto riguarda il design invece troviamo delle linee che ci riconducono ad un aspetto che oserei definire standard non c'è niente di particolarmente impressionante e dallo stesso tempo è tutto a suo posto direi che lo spirito teutonico dei designers si ripercuote inevitabilmente sul risultato finale che definirei asciutto privo di orpelli e di voli pindarici una cassa sinuosa e compatta che vede il suo massimo punto di fantasia nei fori esterni sulle anse fori propedeutici alla rimozione delle spring bars naturalmente poteva mancare il fine funzionale di una qualsivoglia scelta presa sempre accattivante il lato corona laddove il trittico sporgente crea sempre un certo fascino tra noi appassionati in questo caso troviamo anche le spallette di protezione corona a definire e confermare ulteriormente lo spirito sportivo e militare del pilot in questione attenzione la corona di carica è a vite così come lo è il fondello che continua a mostrarci quella austerità già vista in precedenza completamente opaco e completamente liscio niente scherzi spiccano poi le diciture in tedesco essenziali perentorie come la lingua nella quale sono scritte edelstahl automatic wasser dicht 10 atmosfere credo che ogni ulteriore commento sia superfluo se non il sottolineare i 100 metri di impermeabilità un buon dato al di sotto troviamo il calibro sv 500 la versione di casa sellita che corrisponde all'etta 77 50 movimento sul quale non vi sono particolari considerazioni da fare in quanto utilizzato ogni dove e del quale non sono in grado di definire la versione operativa in quanto il fondello cieco non ci viene il soccorso numerose fonti riportano che solitamente zini in cassa calibri in versione top grade o premium come li chiama sellita in ogni caso prendete questo dato con le molle e se siete interessati verificate in autonomia che sia un'architettura in stile 77 50 lui ossia e vince anche dalla disposizione dei contatori crono al 12 6 e 9 e se vogliamo anche della finestra day date ad ore 6 in sostanza si tratta di un quadrante che nelle sue fattezze risulta visto e rivisto ma non è certo un minus si tratta infatti di un classico quadrante pilot come quello di molte altre case che li propongono mi vengono in mente Hamilton e IWC su due differenti fasce di prezzo naturalmente ma anche Fortis e molti altri brand del passato italiani compresi ma cosa è che contraddistingue questa tipologia di quadranti la leggibilità in primis accenti bianchi su sfondo nero appaiono essere un classico e da lì non ci si smuove anche su un orologio da 38 mm come questo il fattore leggibilità delle funzioni è conseguito a pieni voti grazie alle sfere a siringa bianche attenzione però si tratta di lancette scheletrate dipinte di bianco che vengono poi riempite di superluminova così come è presente abbondantemente sugli indici e sui numeri arabi che appaiono anche leggermente in rilievo un tocco di effetto 3d che non guasta chiaramente le tre sfere della funzione crono sono legate tra loro da una semplice soluzione grafica ossia hanno una freccia alla propria estremità proprio per differenziarle da quella dei secondi continui ed ore 9 il cui compito è relegato a mostrarci il funzionamento corretto dell'orologio ci sono poi un paio di considerazioni da fare almeno per quanto mi riguarda in primis potete notare la completa assenza di qualsiasi tipo di scala cronografica non compare neppure la classica scala tachimetrica tanto odiata da qualcuno qui la funzione crono è finalizzata al semplice trascorrere del tempo da un dato evento e non serve a calcolare improbabili funzioni matematiche anche questo un segno dello spirito essenziale con cui è stato realizzato il design inoltre vorrei soffermarmi sul vetro plexi come detto esiste anche la versione in vetro zaffero ma devo dire che la pulizia del plexi è difficilmente raggiungibile e con pulizia intendo la parte periferica bombata che mette in mostra la calda distorsione del quadrante senza però evidenziare alcun riflesso ridondante come avviene per gli zafferi bombati ciò lo si nota anche in assenza di luce laddove tutti gli accenti necessari reagiscono e diventano luminescenti anche la punta romboidale della sfera crono e questo ci consente di poter seguire ed eventualmente leggere i dati cronografici al buio ho scelto questo orologio con il bracciale e secondo me è l'opzione migliore il classico bracciale design con maglia d'acca e segmenti centrali tondeggianti gode della stessa micro pallinatura della cassa andando così a completare l'aspetto generale a pare il mio questo in plus per quasi tutti gli appassionati da sottolineare che le maglie sono tenute in sede da viti a testa esagonale e che nella scatola in dotazione sono presenti sia una chiave a brugola che una confezione di frena filetti adatta allo scopo non utilizzate i frena filetti in commercio che sono molto potenti e poco adatti a viti di queste piccole dimensioni per chiudere diamo uno sguardo alla chiusura deployant in dotazione bene la prima sorpresa è che è presente una prolunga per allungare il bracciale e per consentirci di indossarlo sopra gli indumenti tra l'altro è molto ben fatta in acciaio solido e del giusto spessore la scatoletta di per sé è di quelle a doppia chiusura di sicurezza in stile diver per intenderci la giusta soluzione per un orologio di questo tipo che deve essere utilizzato senza pensieri inoltre sono presenti classici forellini per la regolazione fine due da un lato e tre dall'altro soluzione che consente di trovare il giusto equilibrio tra la lunghezza dei due spezzoni possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali inutile dire che questo orologio mi ha convinto al cento per cento ci sono però alcune considerazioni da fare così pur parlay no per cercare di sviscerare al cento per cento la situazione intanto possiamo partire dal vetro plexi che non è amato da tutti no lo capisco vetro plastica tende a graffiarsi per conto si può lucidare facilmente con del dentifricio in pasta bianca o con del polish insomma però offre un aspetto più caldo all'orologio se volete potete prenderlo con lo zaffero però costa leggerissimamente di più non mi ricordo quanto quanto è la differenza potete andare a guardare in autonomia un'altra considerazione da fare che in questo orologio non sono presenti i famosi brevetti che rendono unica zin cioè abbiamo ad esempio scappamento diapal il trattamento taggiment per indurire l'acciaio oppure il sistema AR di deumidificazione più altri brevetti di zin ecco in questo orologio non c'è nessuno di questi quindi lo potremmo considerare una sorta di entry level nella gamma di zin in quanto non sono presenti questi queste particolarità e a dirla tutta il trattamento taggiment indurente lo avrei visto bene su questo tipo di materiale di acciaio di sabbiatura ed è un altro punto da tenere in considerazione la sabbiatura questo colore particolare che prende l'acciaio è bello perché è satinato è opaco i graffi si vedranno meno gli da quell'aspetto militare da tool watch da orologio da utilizzare senza aver paura di fargli male però per contro potrebbe diventare anche noioso potrebbe stufare potrebbe ad un certo punto darci l'idea della plastica perché non è un colore più chiaro dell'acciaio no sembra quasi plastificato quindi alla lunga potrebbe dare fastidio dovete tenere in considerazione anche questa eventualità io secondo me non è così accentuato questo colore grigio chiaro e avevo io una volta avevo comprato l'emilton khaki a carica manuale con questa micro panina ma pallinatura ma era veramente molto più chiaro di questo e l'effetto plastica ea un certo punto mi ha spinto a far venderlo non è questo il caso che è leggermente più scuro comunque tenete presente anche questa particolarità per il resto a me piace a chi non piace non piace se piace a tutti non va bene se non piace a nessuno non va bene quindi fatevi un'idea e ognuno traga le proprie conclusioni boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video e l'orologio o perlomeno il presentatore e non mi resta quindi che ringraziarvi e ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love